Invece dovrebbe esserci forse la cosa più importante, perché dopo che hai ringraziato tutte le persone che con molta professionalità ti permettono tutte le sere di fare, di salire sul parco, ci sono molte, molte, molte altre persone che permettono a te di salire sul parco e permettono ad una serata di cambiare completamente. A tutte quelle persone che si alzano la mattina, si svegliano e vanno ad acquistare il biglietto del tuo concetto, a tutte le persone che ascoltano il tuo disco, a tutte quelle persone che ascoltano i pezzi che scrivi, a tutte quelle persone che ascoltano i pezzi che canti, a tutte quelle persone che ascoltano le tue parole, a queste persone qua, che non togliamo niente a quello che c'è qui, fanno il 70 o l'80% del nostro lavoro, ci dovrebbe dare un grazie veramente enorme. Io l'unica cosa, l'unica parola che posso avvicinare, anche se non è perfettamente precisa, diciamo, l'unica parola che posso avvicinare a queste persone qua, che ti permettono di realizzare, di accumulare quei mattoncini, di aggiungere i mattoncini al muro che si chiama vita, al muro che si chiama capire. L'unica parola è la parola, il titolo del pezzo che ha dato vita a questo nuovo progetto, a questo nuovo me e che ha iniziato tutto sulla postera di lui. Io ve lo dedico perché questa è solo che vostra. Grazie.